Eccoci qua, buongiorno a tutti. Spesso nei video ho parlato dell'importanza di andare a pettinare il nostro barboncino al rientro dalle passeggiate. Quale strumento utilizzare? Allora per pettinarlo quando torniamo dalle passeggiate io vi sconsiglio il cardatore perché non vi permette diciamo un'analisi per vedere se è rimasto qualcosa incastrato nel pello del cane o no. Il cardatore è utile però diciamo in altre situazioni. Al rientro dalle passeggiate io vi consiglio di utilizzare un classico pettine come questo, denti larghi, denti stretti. Possiamo passare direttamente con i denti stretti fino a toccare appunto la cute del nostro barboncino per andare a sentire se si è andato diciamo a incastrare qualcosa sotto il pelo. Quindi voi lo passate lentamente accuratamente fino ad andare a toccare appunto la pelle del vostro barboncino per sentire se si è andato diciamo a incastrare in avvertitamente qualcosa. Zone molto importanti da controllare sono sotto le ascelle, qui dobbiamo controllare attentamente, tra le dita delle zampe del nostro barboncino dobbiamo sempre controllare al rientro delle passeggiate e poi intorno all'orecchio questa è una zona diciamo dove si possono andare a incastrare diciamo dei pezzi di vegetazione che possono essere insidiosi. Io vi ringrazio e vi auguro una buona giornata.